Castelnuovo, più noto come il maschio Angioino, il monumento simbolo della città di Napoli, si racconta secondo un innovativo modello di fruizione tecnologica, mentre inaugura il nuovo allestimento del museo, ampliato ed arricchito di opere e collezioni importanti. La statua di Antonio Toscano, eroe della Repubblica Napoletana del 1799, immortalato da Francesco Ierace, accoglie simbolicamente il visitatore al primo piano e precede le 58 sculture della collezione Ierace per la prima volta insieme ed in esposizione permanente nella Sala Carlo V. Al terzo piano invece si trova la Sala del Novecento, con pitture e sculture provenienti da Palazzo San Giacomo ed altri uffici municipali, oltre alle donazioni Chiancone, Gatto, Renda e Tiziano. La nuova veste tecnologica del castello prevede inoltre sistemi di navigazione innovativi che sono stati pensati per interagire con schermi televisivi, consentendo di passeggiare virtualmente in luoghi e musei di Napoli, oltre a visitare il castello utilizzando uno smartphone al posto delle tradizionali audioguide, ed ascoltare direttamente l'opera che parla grazie ad un'apposita applicazione. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Comune di Napoli, il Distretto ad alta tecnologia per i beni culturali ed il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Napoli Federico II. E va nella direzione di una valorizzazione costante degli spazi pubblici della nostra città, a cominciare dai nostri gioielli. Un'opera mai fatta che mette insieme arte, collezionisti, comune, università e la città di Napoli. E' tantissima qualità, perché devo dire è veramente una mostra eccellente, mostra permanente, alla quale abbiamo contribuito anche noi, da Palazzo San Giacomo portando qui in una fruizione collettiva quadri e sculture presenti nel Palazzo del Popolo e quindi credo che siamo tutti molto soddisfatti. Napoli che sempre di più attraverso l'arte e la cultura si sta riscattando. Lavorando per il bene comune viene anche un po' meno la distinzione tra pubblico e privato. Noi stiamo dimostrando che gli spazi pubblici devono essere valorizzati, non devono essere chiusi a chiave. I lucchetti si devono aprire, riempire di arte, di vita, di cultura e farli conoscere al popolo napoletano e alle centinaia di migliaia di turisti di tutto il mondo che stanno venendo nella nostra città. Grazie a tutti.